Ok, un veloce inserto sulle modalità miste che mi sono inventato per risolvere dei problemi che vengono fuori sul riconoscimento vocale, su certi modelli di smartphone, su certe varianti di Android, molto difficile andare a dire in quali condizioni e quando comunque sia succedono e quando succedono sono distruttive perché non c'è modo diciamo di risolvere. Gli errori che solitamente vengono fuori, quello che ho scritto qua, sono l'errore 3 o 7 e in tal caso la mia app quando attiverete o la conferma di lettura o la risposta diretta finirà col darvi sempre l'errore 3. In realtà non è la mia app ma è il sistema di riconoscimento vocale l'assistente vocale di Google in pratica che manderà indietro questo errore in modalità solitamente anzi vi dico sempre in modalità bluetooth poiché la modalità bluetooth è difettosa su certi su certe diciamo customizzazioni di Android. In conclusione quella non vi funzionerà mai e per questo mi sono inventato una modalità mista. Perché mista? Perché praticamente mando le notifiche come sempre via bluetooth quindi o sull'auricolare o sull'autoradio sulle casse d'autoradio e mentre invece il riconoscimento vocale lo farò attraverso il microfono del telefono. Questo è ben spiegato nella sua in questa definizione del warning che esce fuori anche dopo tre errori consecutivi tre o sette e quindi vi darà una mano a individuare il tipo di problema e come risolverlo. Ecco nella figura d'aiuto vi mostra anche con evidenza dove andare a diciamo individuare le modalità miste una è ovviamente ben in vista nella parte principiante nella sezione comandi vocali l'altra nella modalità più avanzata e più articolata perché bisogna andare in comandi vocali in comandi vocali eccoli qua. Peraltro una volta che siete nel relativo diciamo warning di aiuto se premerete sulla figura ecco che verrete automaticamente inviate la zona. Modalità mista 1, modalità mista 2. Una di questa ha da una soluzione specifica la prima è più diciamo semplice dirette da anche migliori prestazioni la seconda è un alternativo quando proprio non c'è nulla da fare questa in genere risolve la seconda si applica unicamente al caso di connessione in emulazione telefonica. Perfetto Grazie a tutti. Grazie.